Guanti in silicone. Il vantaggio di poter disporre delle elevate prestazioni del silicone abbinate alla praticità del più tradizionale guanto da forno. Guanti in silicone è composto da una superficie esterna in silicone che resiste fino a 220 gradi centigradi. È un'efficace protezione al calore. È comoda ed elegante grazie al manicotto in cotone cucito sulla parte in silicone. Ha una fodera interna in poliestere e cotone collegata sia alla parte in silicone che al manicotto in cotone. Misura 30,6 x 18,5 cm. Se il video ti è piaciuto scrivi un commento e lasciami un like e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie a tutti.